Si continuano a raccogliere l'immondizia, peraltro smaltita, in maniera indifferenziata. L'azienda sanitaria provinciale continua a non pagare la Tari, le ultime tre annualità per circa un milione di euro e l'ospedale Spocchi di Locri continua ad essere inondato di spazzatura. Uno sconcio, neanche a dire, di quanto inaudita gravità che chi si riechi in ospedale è costretto quotidianamente a sorbirsi. Da diversi giorni, infatti, la spazzatura del nostro comio Locresse non viene riterata con il risultato che diverse cataste di rifiuti perennemente circondano l'edificio. Anche per questo, nei giorni scorsi, il vice sindaco della città di Locri, Giuseppe Fontana, unitamente alla rappresentante dell'impresa Muraca, la ditta che effettua la raccolta di rifiuti per conto del comune di Locri, ha incontrato il direttore sanitario ospedaliero Domenico Fortunio per cercare con lui un modo per eliminare questa indecenza causa di una vera e propria emergenza igienico-sanitaria. Del resto, la montagna di rifiuti, accatastata all'esterno dell'ospedale, è una quantità enorme che non potrebbe ormai neppure essere raccolta dall'impresa, anche perché difficilmente si riuscirebbe a conferire in discarica. Dall'incontro è emersa la rassicurazione che d'ora in avanti, all'interno dei reparti, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata correttamente in maniera differenziata. Se non avverrà così, è stato puntualizzato, l'impresa non effettuerà il ritiro dei rifiuti, con conseguente conferimento in discarica, il che riproporrà il rischio di vedere ricostruita la catasta di rifiuti. Detto questo, sembra che per questa volta la problematica potrà essere risolta. Infatti, il vice sindaco Fontana, sentito ieri sera, ha affermato che la Metro City ha autorizzato a conferire in discarica il prossimo giovedì questa eccessiva quantità di rifiuti indifferenziati all'incirca più di 20 tonnellate e così potrebbe effettuare la bonifica delle aree ospedaliere dove i rifiuti erano accatastati. Il vice sindaco della città di Locri, con una certa soddisfazione per il positivo risultato conseguito, ha comunque ammonito se gli operatori ospedalieri non inizieranno ad effettuare la raccolta dei rifiuti in maniera differenziata fra qualche settimana. Saremo punto e a capo dal momento che lo sconcio si ripresenterà.